Nuovo aggiornamento da muoversi in Toscana, ancora ben trovati da Mauro Ciutini. Traffico rallentato sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra lo svincolo La Strassigna e l'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. Solita direzione, un veicolo segnalato in difficoltà allo svincolo San Miniato-Basso. Altro veicolo fermo in A1 tra Incisa-Reggello e Firenze-Sud, direzione Firenze, un'auto ferma in emergenza. In A11 ci sono code tra la barriera di Firenze-Ovest e Prato-Est in direzione di Pisa. Ancora il traffico è intenso sui viali a Firenze, sia in entrata che in uscita dalla città. Infine ricordo per i voli, quello da Firenze per Barcellona delle 20.25 è stato spostato a partenza alle 20.50. Muoversi in Toscana, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze a dopo. Grazie a tutti.